vinili che non potrò mai farvi vedere mai vinili che amo ma che non potrò mai farvi vedere nella nostra particolare graduatoria che in realtà non è una classifica ma semplicemente un elenco di ben 101 vinili che dovete avere ce ne sono alcuni che pur amandoli non potranno mai essere inseriti in questa lista per quale motivo perché la casa discografica ha un algoritmo che blocca automaticamente la riproduzione di anche pochi secondi di alcuni di questi dischi quindi per questo motivo in quei 101 album che dovete assolutamente avere in vinile non troverete mai ad esempio jimmy hendrix o meglio di jimmy hendrix experience are you experienced album d'esordio della band anglo americana capitanata da jimmy hendrix ma trasferitosi quegli anni verso la fine degli anni 60 a londra ecco ebbene questo album non lo potrò mai far vedere perché viene bloccato è l'album d'esordio tra l'altro della band capitanata da jimmy hendrix e nel 1967 quando venne pubblicato raggiunse surgeon peppers and the lonely hearts club band in testa alle classifiche di tutto il mondo è stato pubblicato pensate il 12 maggio del 1967 io avevo appena compiuto la bellezza di nove giorni quindi oltre a jimmy hendrix e are you experienced album 1967 nessuno degli album dei beatles che io ho in collezione completa in questo prezioso confanetto potrà mai essere parte di quella serie di video dei 101 album in vinile che dovete assolutamente avere quindi nemmeno surgeon peppers lonely heart club band questo che condivideva l'anno di pubblicazione e la testa delle classifiche con jimmy hendrix nemmeno questo album potrà mai entrare in quella particolare graduatoria un album che è stato pubblicato il primo giugno 1967 è andato subito in testa alle classifiche la durata 39 minuti un singolo vinile anche nella versione rimasterizzata malgrado io lo adori questo disco così come jimmy hendrix non potrò mai farvelo ascoltare nella mia particolare graduatoria dei 101 vinili che dovete avere c'era sicuramente anche posto per the beatles meglio noto come white album e cioè il nono della band di liverpool album omonimo questa volta in realtà un album molto lungo più di 90 minuti su due dischi anche nella versione originale ebbene anche questo disco purtroppo qui non lo vedrete mai o meglio lo vedrete ma non lo sentirete mai vale la stessa cosa per il famosissimo e celebratissimo abbey road undicesimo album della band di liverpool registrato non solo ad abbey road ma anche negli olympic studios di londra nel 1969 ecco anche questa questa trilogia non la potrete vedere mai poi devo dire che non ne sono certo però molto probabilmente anche i led zeppelin hanno questo stesso tipo di blocco da parte della loro casa discografica perché diciamo così è un blocco che coinvolge tutti e tutte le grandi band del passato più alcune del presente ebbene le zeppelin 4 che è il mio album preferito della discografia delle zeppelin pubblicato l'otto novembre del 1971 durata 42 minuti un solo vinile ebbene anche le zeppelin 4 non so se riuscirò mai a farvelo ascoltare da queste frequenze però se c'è un disco che quando ci penso mi viene da fare veramente come l'urlo di munch che non ci posso credere anche perché me lo hanno già bloccato su questi video è una cosa veramente incredibile è un disco recente ma fondamentale per la storia della musica io l'avrei voluto mettere al numero uno dei vinili che dovete avere si tratta di lui si tratta di primal scream screama delica album del 23 settembre 1991 un album mitico che ha cambiato la storia della musica e non possiamo ascoltarlo non possiamo possiamo solo vedere questa bellissima copertina dell'artista paul cannell che è scomparso tra l'altro nel 2005 che aveva lavorato a queste ed altre copertine dei singoli dei primal scream questo è tutto quello che noi possiamo vedere una copertina che è finita addirittura sui francobolli della royal mail come i dieci album più belli di sempre come copertina ecco lo possiamo solo guardare non possiamo ascoltarlo ma perché io dico perché si tratta di diffusione gratuita ho visto anche dei video del mio mito Rick Beato incazzato lui vabbè ha anche 4 milioni di iscritti al suo canale noi siamo appena sopra i 30 però immaginate lui che è incazzato che è se sono arrabbiato io con 30 figuriamoci lui che ha 4 milioni di ascoltatori in giro per il mondo ecco anche a lui bloccano in automatico l'algoritmo blocca questi album ma per quale motivo la musica rock è in pericolo probabilmente tra 20 anni non ci sarà più non ci sarà più nulla di tutto questo i giovani d'oggi non ascoltano musica rock tutto quello che esce da una chitarra a loro non piace deve esserci un sintetizzatore con sopra una voce che spara cazzate questa è la musica che va oggi non c'è più questa musica se non la diffondiamo è persa per sempre persa per sempre ok non c'è un sintetizzatore con sopra